Salve a tutti, oggi parleremo dell'occupazione italiana del Somaliland. Con la dichiarazione di guerra nel giugno 1940, l'Africa orientale italiana si ritrovò isolata dalla madre patria. Subito gli italiani occuparono piccole città sul confine con Kenya e Sudan, e a luglio venne deciso di occupare la Somalia britannica, cosa che avrebbe impedito un attacco inglese contro la RAR e ridotto il fronte da 1.100 km di frontiera terrestre a 700 di coste. Le forze italiane per l'attacco erano 35.000 uomini al comando del generale Nazi, divisi in 23 battaglioni coloniali, 3 nazionali e 21 batterie di vario calibro. Le forze inglesi potevano contare solo su 11.000 uomini, al comando del generale Godwin Austin, suddivisi in due battaglioni di fucilieri, due battaglioni indiani, uno scozzese, cinque compagnie di camelieri e unità di polizia somale. L'attacco scattò il 3 agosto su tre colonne. La colonna di sinistra del generale Bertoldi puntava verso Zeila e la costa, quella centrale del generale De Simone verso Berbera e quella di destra comandata direttamente dal generale Nazi puntava verso Argan per poi avanzare su Berbera. Già il 6 agosto Nazi ordinò di muovere tutte le colonne verso Berbera. La resistenza inglese fino ad allora fu scarsa perché le forze inglesi si erano attestate su Argan, che venne raggiunta dagli italiani il 10. Dopo un bombardamento aereo, l'11, tre brigate coloniali attaccarono le posizioni nemiche, ma senza successo. Solo il 13 si ebbe qualche progresso verso Berbera e il 14 gli italiani occuparono due fortini molto importanti per la difesa nemica. A questo punto il generale Godwin Austin decise di ritirare le truppe dall'Argan, per paura che fossero accerchiate dalla colonna di sinistra e di destra italiana e di ripiegare su Berbera per evacuare le truppe in Yemen. Mentre il comando britannico consentiva le evacuazioni, il 15 gli italiani attaccarono per l'ultima volta le posizioni sull'Argan, occupando le posizioni fortificate e il fortino principale. A questo punto iniziò il ripiegamento britannico. Il 16 iniziò anche l'evacuazione inglese e si concluse il 19 con l'imbarco di 7.140 persone, tra cui 1.266 civili. Lo stesso giorno le truppe italiane entrarono in Berbera, devastate dai bombardamenti. Le perdite italiane furono 465 morti, 1.530 feriti e 34 dispersi e la morte o ferimento di 1.000 ribelli delle tribù locali per un totale di 2.029 uomini. Le perdite materiali furono solo 4 aerei. Gli inglesi ebbero 50 morti, 102 feriti e 120 dispersi. Le perdite materiali furono abbastanza pesanti e ammontarono 7 aerei abbattuti, 10 danneggiati, un rimorchiatore affondato, 5 cannoni tra carri armati e 128 automezzi abbandonati e 5.400 fucile e 100 mitraliatrici con molte munizioni abbandonati. Le tribù locali alleate con gli inglesi persero 2.000 uomini. Grazie per la visione, vi chiedo di commentare, condividere e mettere like e noi ci vediamo al prossimo video.